I Fratelli serva questa sera alla locanda dei Girasoli, due stelle Michelin. Che cosa cucinerete questa sera per questa cena di solidarietà? Stasera partiamo con una droga marinata nello yogurt con un aceto di rose e un couscous profumato alla curcuma. Apparentemente semplice, però anche un couscous ci vogliono 5 ore per farlo, cioè il couscous. Diciamo due piatti ciascuno, l'altro primo sarà un riso alle erbe spontanee con un caviale d'acqua dolce e quindi un risotto verde abbastanza semplice ma anche un'espressione diretta del nostro territorio. Sì, a seguire un petto di faraona farcito con la pesca della sabina, con la vaniglia, pesca della sabina e vaniglia e una caponata di verdure. E poi abbiamo un dolce, un dolce di ricotta con una fragole e zenzero con una chadda al cacao. Questo è il nostro menù. Allora, sarà una serata decisamente particolare, arricchita dai vostri piatti. Che cosa vuol dire per voi essere qui oggi? Noi siamo stati qui sei anni fa e ancora, cioè io mi ricordo che sei anni fa quando sono uscito, veramente ho ringraziato Consonfi per la possibilità di esserci stato. Veramente stare insieme a questi ragazzi è un'esperienza unico di vista umano, qualcosa di veramente unico di vita tipo. Diciamo che io non farei passare ancora sei anni per ritornare, quindi cerco di ritornare il più possibile. È stata un'esperienza bellissima con loro, conservo tutte quelle foto e quei video con questi ragazzi. E quando il dottor Rosialli mi ha chiesto se volevo partecipare, beh, non ho esitato. Ma sicuramente poi nel periodo invernale sto pensando di venire più spesso quando l'istorante è chiuso e stare con loro. Quindi questo è quello che voglio fare in futuro. Lo dichiaro ora, ma lo farò. Un bel annuncio, grazie. E un'altra cosa aggiungo, io addirittura prima stavo pensando che c'era un ragazzo che era qui sei anni fa, quindi quando mi ha visto mi ha riconosciuto subito, e addirittura gli ha proposto di, se c'era la possibilità, di fare un mese di stare da noi. Certo.